bella raga siamo qui con gli waves in autumn poco prima del loro concerto domanda di rito raccontaci un po chi siete dove venite il progetto come nato la band è nata già come waves o c'erano le cederi di un vecchio progetto c'è una storia alle spalle fondamentalmente noi già suonavamo in un progetto precedente facciamo la gametta quando poi questo si è sciolto siamo rimasti nuovi strumenti e cercavamo il cantante in realtà lui poi in quegli anni già lo conoscevamo lo sentiamo cantare tiriamolo dentro i waves in autumn come nome in realtà è nato praticamente in quel periodo lì mentre eravamo al mare eravamo al mare era autunno è l'ufficiale spiegazione del nome siamo ignorati siamo un po ignorati se lo vuoi se ci credi è questa è stata una frase sua cioè io ho la scena impressa è stata una frase sua sulla spiaggia in un momento di depressione voi come li collocate all'interno della scena metacolo nel senso siete più attenti ai nuovi trend o comunque come si è evoluta la scena nell'ultimo periodo siete più interessati invece a creare qualcosa di molto più personale di vostro ma diciamo che ci lasciamo un po ispirare da quello che ci piace cioè senza andare a pensare effettivamente bene a un trend a seguire una cosa cioè quello che ci ispira nel momento noi come persone come composizione lo tiriamo fuori diventando più più istintivo si pian piano che si va avanti è più emotivo si anche una ricerca studiata di quello che facciamo poi appunto ormai ci sono quasi una decina da anni tra noi quattro soprattutto a girarci pezzi di canzoni riff e quindi fondamentalmente ormai si è creata una sorta di cadena di montaggio ci sperimenta molto per dire le ultime volte che cioè le ultime robe che abbiamo scritto ci siamo messi a provare più sound quello che ci ha ispirato di più abbiamo detto è questo continuiamo su sta roba qua e abbiamo sviluppato il resto dei pezzi basandoci sulla cosa che ci sembrava un po personale ma anche abbastanza innovativa diciamo per noi il processo compositivo per esempio come trovate una quadra dei vostri ascolti io faccio la pittura con le idee riff motivetti anche audio su whatsapp arrivano a me cestino ho un cestino lo tengo dopo salta fuori quello che salta fuori si praticamente michael fa un po le veci del produttore quali sono dunque i vostri ascolti quali sono gli artisti con cui vi piacerebbe di collaborare quelle delle influenze a me piacciono però come ascolti siamo molto variegati come a livello personale però noi dirigiamo quella che è la nostra attenzione perché sono spesso lasciarci troppo inflettare da quello che stiamo ascoltando cerchiamo di scrivere una cosa un riff un motivetto che possa essere waves e poi si compone in quel senso quando scriviamo pezzi per la nostra band pensiamo semplicemente come waves in autumn non prendere copia e incollare prendi e lo fai tuo lo personalizzi lo assorbi lo riadatti questa cosa è stata più semplice perché ascoltandomi da giovane ho smesso ad un certo punto di suonare qualunque musica degli altri band da lì in poi ho soltanto creato quello che potevo fare qual è se doveste riassumere qual è la formula la salsa segreta del crabby patto lascia lui la stanchezza quando il riff che gli arriva a lui si è stato scritto con un'emozione un pensiero fisso quella cosa lì poi lui riesce a crearla ok perché senza quella cosa lì diventa troppo piatta e se ne accorge subito penso che la formula sia soprattutto di pancia non c'è qualcosa di difficilmente quadrabile per dire suona waves che poi è una cosa che spesso non sapremmo spiegare nemmeno penso che sia una cosa che nasce semplicemente dal trovarci noi cinque e diciamo questo suona è la roba nostra come noi suoniamo andiamo su come siamo fatti senza cercare di forzarci ad esempio a fare le composizioni che magari per me sono complesse piuttosto che fare cose che non sono istintive diciamo che abbiamo puntato molto anche sulla resa live diciamo che secondo me è una chiave molto importante forse scontata però comunque non è così scontata effettivamente ai fatti e quando ti trovi in saletta e risuoni i pezzi che hai scritto e senti che cazzo tirano allora bella let's go assolutamente questa cosa la porti live la gente si diverte parliamo appunto dei live stori recitati come è cambiata secondo voi da quando avete iniziato ad adesso la scena live vedo quel covid è cambiata paese cioè secondo me se ne sono accorti tutti altri che c'è andate a fan culo ciao ragazzi bella no diciamo possiamo dare due prospettive abbastanza differenti ma che coprono un ampio spanno di tempo perché noi abbiamo cominciato cinque anni prima dei wave è che dieci anni fa a questo punto due erano nei locali qua facevano un paio di serate e le serate erano anche frequentate da gente molto più di nicchia molto più quelle tre quattro persone si e spesso poi magari legate anche un contesto di metal più classico adesso post covid a me sembra che ci sia stato un mondo poi lui è molto ultimamente sul pezzo anche a ma non è che lo dico io c'è un po' di serate sold out iniziative nuove gruppi nuovi che spartano c'è più vota c'è più roba c'è più gente la gente è presa bene la gente ha un'altra mentalità non so sarà il covid ci ho fatto capire cosa ci stavamo perdendo e abbiamo detto raga diamoci dentro a proposito di ciò che è waves voi avete un immaginario che è molto specifico quindi riguarda molto la natura riguarda molto anche gli animali spiegateci un po' da dove è nata l'idea da dove è partita e come l'ha stata portata avanti questa appunto questa scelta è stata una cosa abbastanza naturale tra di noi quando abbiamo messo il gruppo cercare immediatamente delle reference rispetto a un'immagine che ci potesse piacere o che ci potesse rappresentare in particolare siamo andati sulla natura gli animali soprattutto perché un po' è una di quelle cose che subito ci abbiamo trovato è molto affascinante per noi ci sono sempre piaciuti anche per fare un po' contro all'immagine contrario che di solito si ha è tutto digital sci-fi poi gran parte dell'immagine in questo senso una volta concordata io facendo le mie grafiche ho più o meno sviluppato quello che era l'idea poi tra l'altro rispetto agli animali alla natura c'è una serie di tematiche che riprendiamo nelle canzoni piuttosto che anche nei temi degli artwork si può trovare per ogni animale un comportamento umano che puoi associare si può trovare un sacco di metafore che sono efficaci tante cose sono partite da lui anche come diceva il libro di etologia il documentario sì tipo c'è non so bene da quando è partita penso probabilmente da quando ho iniziato a seguire naturalismetalswimster più metal della natura non c'è niente ho detto cazzo facciamo meta figa facciamo che fare musica fare questa cosa qua fare il bordello sul palco è una cosa molto istintiva emotiva quindi un po' risveglia anche i bambini che ci sono dentro di noi anche già all'epoca non è che fossimo particolarmente dentro una wave ricordo che all'epoca era appena scoppiato forse i gent c'erano gli altri si in quel periodo là c'era mega quella bene o male noi abbiamo sempre ascoltato perché chiaramente siamo fan del genere ma non siamo mai stati troppo trasportati nemmeno personalmente sull'estetica di un certo tipo abbiamo cercato di fare una cosa che non c'esse proprio dei nostri interessi anche le grafiche le fai tu ad esempio per il merch si merch le copertine l'artwork di cui vai più fiero che dici cazzo questo qui è bello non sono ancora arrivati no non parla da quando fa allora rispetto a quelli che abbiamo adesso fuori il mio gusto personale quello di wild beast che fondamentalmente è uscito molto impact mi piace molto c'è questo arancione molto potente e in generale forse che anche quello mi piace molto perché c'è questa mappa dietro che mi sono intrippato via a fare però per l'appunto noi tendiamo a essere anche qua in costante evoluzione quindi anche qui forse devo dire la cosa di cui vado a profilo oggi è la maglietta nuova che c'è giù sotto che porteremo su dai live quindi messaggio promozione sempre per quanto riguarda questione merch social eccetera voi siete indipendenti quindi non siete sotto etichetta e avete anche dei buoni numeri vostri social vi lo porto avanti voi siete molto presenti siete comunque parecchio attivi sì allora forse principalmente era più lui che gestiva la social social Davide poi è diventata un po' una questione comune di tutti l'obiettivo nostro adesso è cercare di diventare un po' tutti quanti attivi a tra i 60 su tutte le cose inerenti alla band che è tosta è tosta richiede impegni richiede attenzione ma soprattutto per quanto riguarda la parte della promozione secondo me la chiave è proprio informarsi e sbattersi per informarsi cercare le informazioni giuste testare e provare vedere cosa funziona rendersi conto di cosa non funziona e capire perché abbiamo 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 una sua parte di gestione social media una parte grafica abbiamo una parte di cura del merchandise una parte di cura delle mailing list e di tutto il commesso economico per cui ci siamo staccati abbiamo tutti i lavori e cerchiamo di configurarci qual è il segreto diciamo da indipendenti di trattarlo come un lavoro essere indipendenti per noi è semplicemente la scelta di non pagare certi servizi che sono servizi che spesso sono molto utili e comodi però c'è una serie di cose dove effettivamente quei soldi li puoi investire imparando a fare tutte le cose il futuro della vostra band qual è? non potendo spoilerare molto allo stato attuale dei lavori la vogliamo già evoluta perchè è già pronto il progetto si 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 è già già pronto il prossimo EP ma parliamo di un EP c'era un'evoluzione c'era un'evoluzione abbiamo cambiato quattro ore tutto il resto diventa più post arco se così vogliamo metterla se così vogliamo metterla le influenze molto molto per titolare più o meno quali saranno le nuove influenze del nuovo progetto senza spoilerare poi semplicemente boh c'è del rock c'è del rock esatto l'ho detto anch'io questo c'era un'evoluzione è estero ed è australiano e diciamo che questo qua ha prodotto delle band che sono abbastanza in bocca siamo andati abbiamo puntato a fare una cosa che valori in tasso il più possibile quindi siamo andati a fare anche un investimento chi è che ha prodotto? si può dire si può dire l'hance 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 ok l'hance l'hance wow è infatti immaginavo ma com'è che funziona? vi mandate i pezzi vi mandate tutto e lui fa e vi manda ho visto l'altro giorno tipo 70 i miei ah ok bellissima nooo no dai eh appunto cos'è che dicevo quasi dieci anni fa allora spiegate sta cosa eh qua avevamo il gruppo che cosa avevi detto? perché era un altro in là il gruppo prima degli websing esatto perché il cantante che all'epoca faceva l'high school ci aveva tirato dentro in una manifestazione che facevano lì in centro Bergamo e quindi poi è arrivato Leipo e cosa fai Leipo? facciamo un gioco world scene x waves in auto national geographic e adesso vi chiedo a ognuno di voi o chi vuole un fun fact sulla natura il più brutale che vi viene in mente il più strano ok ce l'ho non so non avevo dubbi dopo vedi col mio vai vai la mia non ricordo i nomi né niente perdonatemi ma tipo c'è questo parassita che è tipo una specie di fungo che entra dentro agli insetti poi gli mette le uova tipo dentro non mi ricordo bene queste qua praticamente crescono e si incrocessano nel cervello e lo fanno suicidare e sappiamo che il corpo moriva ma il fungo continuava a controllare il corpo e quindi si muovevano davvero io so che gli squali quando sono tipo nell'intero materno e che in realtà sono praticamente già nello sviluppati si mangiano tra di loro dentro per vedere cose non tutte le specie ma c'è proprio alcuni squali e i cavalli mangiano i pulcini mangiano anche la carne mangiano i pulcini si andavano con gli eserciti e i cavalli le potevano sempre le appalate quindi si portavano un tocco di carne secca e la dada mangiava il cavallo il cavallo la mangiava eh sì i cavalli sono persone orribili ricordate e invece sapevate che esiste un insetto con una sorta di coda che impala i corpi delle vittime e si crea una sorta di sciarpa così fatta con i cadavere e arriva in giro a esporli come a modo di molto ma nel cazzo che pazzesco no io sapevo che le orche tipo giocano a ping pong a tennis con le prede per sfordirle tipo se le lanciano con le code si i delfini si robano i delfini si i delfini sono delle merde i delfini sono degli animali puntali l'altro giorno ero in stazione e ho visto un delfino che si spezzava un delfino con quale animali vi identificate? io ho fatto un photoshoot però vedete con le caricature nel tempo del covid dove non si poteva appunto uscire per fare il photoshoot e ce le avevano fatte lui è una volpe si sono una volpe un rosso un lupo un cervo e la roviamo una lontra una lontra non so perché Waves precursori dalla scena Furry le hai equipistoli furly notum un rinotum